Ciao a tutti, oggi prepareremo la bagna per torte alcolica. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, zucchero e rum. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 6 minuti, 80 gradi, velocità 4. Aggiungiamo il rum ed azioniamo il bimbi. Per un minuto, a velocità 3. La bagna è pronta, lasciamola raffreddare completamente prima di utilizzarla. Bagna per torte. Si conserva in frigo per 4 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!